Senti, anzi mi hai quasi convinto con la tua storia del spogliato, ma si roba... Sì, mi è rimasto un dubbio, posso farti una domanda? Parliamo insieme. Lì da fuori di impegno ci sono gli uomini e ci sono le donne, giusto? Uomini e donne, sì, uomini insieme! Esatto! Uomini e donne! Dari, tutti insieme, a vivere questo amore! Ma vengo anche io! Uomini, donne, vecchietti e bambini! No! No, scusa, no, no, forse non vi sono spiegato. È fantastico! No, c'è quello che ti volevo chiedere io, è che lì da fuori di imperia ci sono gli uomini, giusto? Gli uomini? E ci sono le donne! E le donne! Gli uomini e le donne insieme, come dire... Sì, insieme uomini e donne vivono questo amore profondo, questo amore ascoluto, questo amore immenso! Ma vengo! Vengono a degli e sorelli! No! Come genitori e figli, tutti insieme per ammasi! No, no, cerca di capirmi, non vi sono spiegato... Dillo con parole... Vediamo... Allora, questi sono gli uomini, giusto? Sì! Questi sono gli uomini! Il pollice di Nascarico! Non so di chi è, questi sono gli uomini! Queste sono le donne, giusto? Lì da voi d'imperia, uomini e donne insieme... come dire... Gnof! Beh? Gnof, gnof! In che senso? Che piacere... Ci si accoppia carnalmente! No, non mi interessa sta religione a me... Ma sei malto? No, no, no... Come gli animali? Sì, sì, sì... No, si fa, come non si fa, si fa... Niente, non hai capito? Un bel dente! Buio! Cibo! Buio totale! Lavi, non farvi agitare e nervosire... Parliamone con il karma!